La nomina di Macri, secondo questa delibera dell'ANAC, non sarebbe dovuta avvenire. Questo è il senso? Sì, questo è il senso. È un po' anche quello che noi, qualche anno fa, perché io ero all'epoca in Consiglio Comunale, insieme all'altra opposizione avevamo fatto notare che, appunto, per la legge che impone, che devono passare due anni tra la carica da consigliere e altre nomine in aziende partecipate, e quindi c'era per noi già al momento l'inconferibilità. E questa delibera chiaramente mette il punto fermo. Ora, probabilmente si legge che il Presidente farà ricorso al TAR, quindi aspetteremo anche ricorso al TAR, però il dato è chiaramente un dato importante e che spero che non abbia ripercussioni né su Estra, né su Coingas e di conseguenza anche sui comuni. Da una prima lettura della delibera dei ANAC si percepisce che Coingas per un periodo non potrebbe fare una nuova nomina, indicare una nuova persona da mettere nel cedio di Estra, e quindi per questo periodo ci potrebbe essere una stasi sia in Coingas che in Estra. La lettura invece politica qual è? Il Presidente Macri non fu eletto al Presidente del Consiglio Comunale e in qualche modo ci fu questa nomina a destra. E' una nuova pagina brutta per la nostra città, perché poi alla fine Arezzo ultimamente viene messa nei giornali più per cose negative che per cose positive, quindi diciamo che come Aretino non sono certamente contento. Sicuramente nel prossimo Consiglio staremo a vedere senz'altro quello che avverrà nei prossimi giorni, ma senz'altro chiederemo un parere, o perlomeno chiederemo al Sindaco cosa intende fare per far sì che vengano garantiti gli interessi del Comune di Arezzo. Alla domanda che ho fatto oggi all'assessore Tanti, perché il Sindaco non era presente, l'assessore Tanti ha solo detto che aspetterà il ricorso del Presidente Macri. Diciamo che mi sembra un pochino poco questo che ha detto per difendere gli interessi dei cittadini aretini.